Come? Non sono qui. Ciao. Partiti. In leggero ritardo schiaccia Sassi in vantaggio alla corda Green Harbour con all'esterno Ellison Wade, più a largo Stella Indiana. Cavalli ora dopo 400 metri di corsa con al comando Green Harbour all'osteccato, al suo esterno Stella Indiana, più indietro a largo schiaccia Sassi e quindi Ellison Wade. Cavalli ora a 350 dal palo, è passato in vantaggio Stella Indiana nei confronti di Green Harbour al suo interno, quindi Ellison Wade schiaccia Sassi. A 200 dal palo, Stella Indiana lungo la corda, leggero vantaggio su Ellison Wade e quindi Green Harbour che trova a ritornare all'esterno nel tratto finale. Stella Indiana è attaccata a fondo da Green Harbour, Green Harbour attacca a fondo Stella Indiana, i due in lotta fin sul palo, a largo Green Harbour all'interno Stella Indiana. Poi terzo Ellison Wade. Vediamo ora se la regia ci ripropone queste immagini finali che ci chiariranno l'andamento finale con Stella Indiana che ha cercato di difendersi all'interno, ma a largo probabilmente è il 2 di Green Harbour a prendere la meglio sul palo davanti al 4 di Stella Indiana, quindi 2-4 è l'arrivo ufficioso della...